Sottoposto da oggi al voto degli iscritti il nuovo codice etico del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie, dopo gli scandali che hanno colpito diversi amministratori del Movimento, Beppe Grillo detta la linea da cui ora in avanti dovranno attenersi gli eletti pentastellati in caso di problemi giudiziari, 6 i punti, tra le novità la svolta garantista che Grillo ha stabilito per quanto riguarda gli avvisi di garanzia. In base al nuovo regolamento infatti chi riceve informazioni di garanzia o un avviso di conclusione delle indagini non è detto che debba incorrere in sanzioni, garantismo però circoscritto al solo avviso di garanzia. Il nuovo codice infatti prevede l'incompatibilità dell'incarico nel caso si riceva una condanna in primo grado, stesso trattamento se si patteggia o se il processo finisce per l'arrivo della prescrizione. L'ultima parola sul codice in ogni caso spetta al garante, cioè lo stesso Grillo, che in base alle nuove regole acquista un ruolo ancora più centrale nel decidere la sorte degli eletti, un destino diverso da quello di Rosa Capuozzo, sindaco di Quarto, espulsa dal Movimento, e da quello di Federico Pizzarotti, che da sindaco pentastellato di Parma fu sospeso dal Movimento dopo aver ricevuto un avviso di garanzia. Oggi, a distanza di ben sei mesi, è arrivata la conferma di quanto sempre fatto notare. Chi tace, piega la testa e non sa formulare un benché minimo pensiero critico, è solo uno yes man, è l'affondo dell'ex grillino Pizzarotti, che su Facebook torna ancora una volta a ribadire l'illegittimità della sua sospensione, proprio perché a quel tempo mancava un regolamento. Lo feci notare, ricorda, ma da parte dei vertici silenzio assoluto. Sul cambio di rotta del Movimento ironizza il Partito Democratico, la svolta garantista è la tomba del grillismo, scrive su Twitter Alessia Morani, mentre Michele Ansaldi, senza giri di parole, battezza il nuovo codice pentastellato come salva raggi. Anche la vice segretaria del partito, Dembora Serracchiani, che parla di garantismo di convenienza, dice che l'unica regola sopravvissuta è che decidono Casaleggio e Co. Anche in Forza Italia non mancano i sospetti sulla tempistica del nuovo regolamento, tanto che Luca Squeri parla di ciambella salva raggi. A respingere le critiche, tra gli altri, Danilo Toninelli, che contrattacca. È davvero surreale vedere i vecchi partiti, PD in testa, criticare il Movimento 5 Stelle per il voto imminente sul codice etico, forse perché sono allergici alla disciplina e al rispetto della legge, farebbero meglio a tacere e a guardare la trave nel loro occhio. Grazie.